Si è tenuto questa mattina un nuovo vertice in comune a Pescara per fare il punto della situazione per quel che concerne il dragaggio del porto. A presiedere i lavori il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, presenti anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ed il comandante della direzione marittima, Bruzzo Molise, Salvatore Minervino. È stato fatto il punto della situazione sulla gara d'appalto affidata all'ACA per rimuovere dai fondali fango e materiale che ne impediscono la piena agibilità. Un'operazione che prevede la rimozione di almeno 150 mila metri cubi di materiale. Lavori che ha spiegato il presidente Sospiri non sono più rinviabili. Sia l'attività della regione che del comune ma della nostra direzione marittima ha creato le condizioni per trovare delle risorse ingenti. Ci siamo dotati di tecnici di altissimo livello per comprendere al meglio quali fossero i sedimenti e quindi come poterli smaltire. Quindi ormai ci siamo oggi appunto una giornata per focalizzare gli ultimi punti e poi farlo partire con grande decisione. È il prima possibile. Se fosse per noi la data era ieri, può essere al massimo dopo domani ma non possiamo aspettare più di tanto. Tra l'altro l'occasione di oggi sarà anche utile per focalizzare le fasi successive, secondo e terzo lotto della realizzazione del nuovo porto che dovrebbe risolvere questo problema dell'insabbiamento in maniera definitiva nell'imminenza ormai anche della partenza dei lavori del primo lotto. Insomma ormai finalmente ci siamo. Quanto costerà questo nuovo dragaggio? Alcuni milioni di euro perché ahimè molti dei sedimenti che sono stati campionati hanno un livello di compatibilità non con lo sversamento in mare a largo e quindi vanno trattati come rifiuti ed è proprio questo il tema cercare di rendere sostenibile un intervento molto deciso in termini di recupero di profondità assolutamente compatibile rispettando ogni normativa e leggi di tutela ambientale ma anche cercando di accelerare il prima possibile. Grazie. 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 Grazie.